Nessun licenziamento è previsto nei centri di allisi presenti in Sicilia, infatti le 25 unità che a fine agosto erano state messe in esubero possono dirsi salve. In sostanza i 25 dipendenti sono così suddivisi, 8 appartengono ai centri di Catania, 5 a quelli di Trapani, 4 di Agrigento, 3 di Enna e 2 di Caltanissetta, oltre ad un lavoratore a testa per gli ambulatori di Palermo e Messina e un impiegato amministrativo a carattere regionale. Esulta la Federazione Regionale UGL Sanità che afferma, siamo soddisfatti, tuttavia chiediamo all'assessorato regionale di predisporre un meticoloso monitoraggio delle assegnazioni dei pazienti da parte delle aziende sanitarie provinciali, perché non è tollerabile che ci siano strutture dove vengono inviati più utenti e altre che ne ricevono meno e si trovano poi, loro malgrado, a dover licenziare per poca produttività. Siamo certi, conclude il segretario dell'UGL Urzi, che l'assessore Razza sarà anche questa volta attento agli interessi dei lavoratori di questo settore e alla tutela di centinaia di posti di lavoro nelle nostre città siciliane.